Pulimo post! Pulimo post! Come facciamo ad arrivare a Capri se c'è lo sciopero? Pasquale, lo vuoi capire? A Napoli può succedere di tutto. L'Aitanic! Qui c'è qualcuno che si può ammazzare. Terrone in meno, no? Terrone, terrone, posa anche sti terrone, ad accattata gloria, che mocio di... Avanti il prossimo! Rai, eh? Leonardo di Capri. L'Aitanic, una bella mora... Rai. Pulimo post! Pulimo post! Pulimo solo di un spazio in me... Avanti il prossimo! Rai, eh? Leonardo di Capri. L'Aitanic! Una bella mora... L'uomo della...